E alle battute finali il processo d'appello d'Antonello Montante, ex leader degli industriali siciliani, condannato a 14 anni in primo grado per corruzione, associazione semplice e accesso abusivo ai sistemi informatici dello Stato. Sei le udienze dedicate alle ringhe difensive, quattro sono state celebrate. A difendere Montante, che è ancora l'obbligo di dimora d'asti e che non è stato presente durante le ultime udienze, gli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina. Il professore Taormina si occuperà delle conclusioni, mentre Panepinto ha ringato sui singoli reati e sulla sentenza di primo grado. Tra i capisaldi della difesa, l'insussistenza dell'associazione, quindi l'inesistenza di un sistema organizzato, il famoso sistema Montante, così come lo hanno chiamato gli inquirenti. L'estraneità di Montante e l'accesso abusivo allo SD, ovvero Montante, secondo l'accusa, chiedeva ed otteneva informazioni riservate sui propri nemici per creare dei dossier per poi utilizzarli come arma di ricatto. Secondo la difesa Montante, non avrebbe saputo da dove arrivavano le notizie, ovvero la fonte, che nel caso era il sistema informatico del Ministero dell'Interno. Ed infine, ultimo caposaldo della difesa, l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi principali del processo Marco Venturi e Alfonso Cicero, definiti testi chiave sulle dichiarazioni dei quali è stato imbastito buona parte dell'impianto accusatorio da parte dei pubblici ministeri. La sentenza è prevista per i primi giorni di aprile.